la prima cosa che ho pensato ragazzi aprendo la scatola e cazzo che bello poi lo giro accendo il display e mi sono cadute le pelle ciao a tutti ragazzi e bentornati come avete letto dal titolo oggi vi parlo di lui del nuovissimo galaxy a 54 che ho in mio possesso da qualche giorno e fortunatamente rispetto al galaxy a 53 i lag che ricordavo sto scherzando ci sono anche qui ma ci sono però altre cose che mi hanno comunque fatto dire ok può andare ma vi spiego tutto all'interno di questo video partiamo quindi al solito dalle cose negative ovvero la confezione ragazzi è completamente vuota ormai ve lo dico sempre e rispetto ai competitor è sicuramente un qualcosa in meno non c'è l'alimentatore non c'è una cover non c'è una pellicola pre applicata sullo smartphone quindi oltre a spendere i soldi per comprare il dispositivo dovrete spendere altri soldi per andare a comprare gli accessori come al solito vi lascio qui sotto in descrizione e comparire qui da qualche parte anche un QR code che vi rimanda al mio canale telegram che lì troverete un sacco di offerte e magari proprio degli accessori in sconto per questi dispositivi però ripeto un peccato visto che la concorrenza sulla stessa fascia di prezzo ha una confezione sicuramente molto più allettante però lui poi si salva nel design è davvero curato poi questo nuovo colore primaverile mi è piaciuto tantissimo anche debola lo ha apprezzato molto questo nuovo colore in mano poi sta bene e anche se comunque comodo è abbastanza tozzo diciamo non è sottile inoltre i 202 grammi di peso lo fanno sembrare ancora più cicciotto un po troppo pesante a mio avviso sensazioni premium ne abbiamo tantissime ma a livello estetico di come sta in mano preferivo ad esempio lo xiaomi 13 lite che ho reso dopo 48 ore perché quello non mi aveva proprio convinto il frame è completamente in alluminio mentre il retro credo sia in vetro ma non sono certo potrebbe essere anche plastica comunque la sensazione in mano è di un update un qualcosa di migliore rispetto alla precedente versione della 53 quindi anche il maggior peso rispetto al vecchio modello può essere giustificato anche proprio dalla scelta dei materiali ma è nella parte frontale che non mi ha fatto impazzire il pannello è sicuramente di buona qualità anche al sole si vede abbastanza bene non ho avuto problemi ad utilizzarlo ma c'è qualcosa che non mi ha convinto davvero a fondo ovvero le cornici questo a54 ha un display da 6,4 pollici ma le dimensioni in pianta di uno smartphone secondo me anche leggermente più grande e ciò che vedo è che poi non mi fanno impazzire come sono state ottimizzate le cornici tutto attorno sono fin troppo spesse ma soprattutto anche la cornice bassa ovvero il mento è un po troppo spesso per essere un dispositivo da 500 euro secondo me si poteva fare un pochettino di più o almeno renderle tutte uguali invece come al solito questo baffo rovina un po il tutto tornando comunque al display è un amole da 120 hertz si vede bene sotto la luce diretta del sole ma non è un s23 per intenderci quindi non è un vero e proprio top di gamma sotto questo punto di vista al tocco idem con patate nessun problema mentre la vibrazione è poco incisiva è poco secca che non mi ha convinto al 100% anche qui secondo me si poteva fare quel qualcosina in più il sensore per le impronte c'è ovviamente non è posizionato però sul frame laterale ma è sotto al pannello è un sensore diciamo buono sblocca diciamo 10 volte su 10 il nostro dispositivo non ho avuto problemi in tal senso non è molto fulminio rispetto ad altri smartphone e credo sia dovuto più dalle animazioni che mostra il sistema piuttosto proprio che nella velocità di sblocco perché in realtà poi lui quando vai a appoggiare il dito vedi che dà l'input per andare a sbloccarlo ci sono sempre queste animazioni un pochettino troppo zoppate che lo fanno sembrare più lento del dovuto ma comunque io problemi non ne ho avuti né dentro e né fuori casa quindi bene per quanto riguarda il design posteriore molto bello le cornici frontali non mi hanno fatto impazzire il sensore per le impronte funziona bene il display si vede bene sotto la luce diretta del sole è comunque un samsung in questo e nell'utilizzo insomma di tutti i giorni almeno per quanto riguarda questi punti non mi ha fatto troppo incazzare ma siete d'accordo con me che 500 euro siano troppi comunque per una serie a per carità ragazzi è vero che poi presto il prezzo calerà ma trovo sia davvero troppo alto per quello che avete appena visto e attenzione ancora non avete visto nulla ma mi raccomando prima di proseguire lasciatemi parlare della mia app preferita che utilizzo su tutti i miei device che siano android apple mac o pc sto parlando di nordpass il gestore di password dove in un unico posto unico posto posso tenere tutte le mie chiavi di accesso le mie password sincronizzate al sicuro così da accedere a tutti i miei dati in qualsiasi momento e da qualsiasi mio device che sia apple o android adesso ragazzi perché dovresti utilizzare nordpass avete presente quando utilizzate facebook per autenticarvi nelle tantissime applicazioni che si trovano online certo è molto facile tac in un attimo siete belli che loggati ma vi siete mai chiesti cosa succede se il vostro account facebook venisse violato gli hacker avrebbero libero accesso a tutti i nostri vostri dati collegati a quelle applicazioni oltre ad avere in mano un sacco di nostri dati personali quindi per loro diventa facilissimo fare grossi danni nei nostri confronti come il furto di identità reati tutti quanti a nostro nome perché hanno in mano poi praticamente quasi tutto usare nordpass vi permette di creare password sicurissime difficili diverse per ogni applicazione oltre ad avere diversi strumenti che vi permettono di verificare se ci sono state delle password violate oltre a tantissimi altri tool presenti all'interno dell'app per avere più informazioni vi lascio il mio link in descrizione nordpass.com slash gesualdo per avere un mega sconto inoltre avete 30 giorni di prova e di soddisfatti e rimborsati trovate il link qui sotto in descrizione sotto al cofano abbiamo un processore discutibilmente potente lexinos 1380 con 8 giga di ram e nel mio caso 256 giga di memoria interna e non venite a dirmi ragazzi che non si vedono i lag ci sono e sono anche piuttosto evidenti è evidente ragazzi come manchino alcuni update per andare a migliorare la situazione proprio anche con l'ultimo aggiornamento che ha migliorato le patch di sicurezza a marzo del 2023 la situazione fluidità non è cambiata molto ovvero non è un telefono ingrippato ma mostra parecchie animazioni azzoppate mostra la classica insomma il classico comportamento alla MIUI di Samsung come ricordavo in A53 sicuramente dopo qualche mese ragazzi questo smartphone verrà aggiornato come è successo in passato però è un A54 che sto pagando oggi 500 euro e questi laghettini queste animazioni che si azzoppano sapete bene che non sono uno di quelli che se ne sta zitto su queste cose ma attualmente questo A54 lagga palesemente deve essere aggiornato la cosa super interessante è che poi a bordo abbiamo Android 13 con le patch di sicurezza già a marzo 2023 perché parliamo comunque di un Samsung e in questo è super aggiornato la MIUI è sempre bellissima ma probabilmente pesante sul sistema come questo c'è bisogno che effettivamente la macchina venga migliorata sotto questo punto di vista anche le memorie ragazzi dopo alcuni test non mi sembrano velocissime e purtroppo non aiutano molto questa macchina nell'utilizzo quotidiano siamo a livelli di Xiaomi 13 Lite su per giù forse addirittura c'è qualche laghettino in più parlando comunque di memoria una chicca c'è è un dual sim in formato nano oltre ad avere la possibilità di espandere la memoria interna tramite micro SD sacrificando una delle due sim la ricezione è molto buona con il mio operatore fast web non ho avuto nessun problema devo dire che mi ha sorpreso anche l'audio in capsula è buono dall'altra parte ci sentono molto ma molto bene mentre ho verificato anch'io il sensore di prossimità ed è molto strano dirlo in Samsung che effettivamente sembra che ogni tanto faccia cilecca accende il display casualmente però devo dirvi la verità io ho cercato di testarlo in questi giorni non mi sembra creare dei grossi problemi non in stile Xiaomi almeno diciamo che se faccio partire una chiamata il display mi si spegne sempre correttamente e anche ascoltando dei vocali non ho avuto fastidi particolari anche se ogni tanto effettivamente lui accende il display così casualmente insomma incrociamo le dita che non ci siano gli stessi problemi come su Xiaomi però diciamo fino ad ora faccio un passo indietro in questo ragazzi io non ho avvertito problemi ma non l'ho utilizzato per un mese per essere certo di questa cosa che sia chiaro questo per parlarvi del reparto fotografico ho come sempre usato come base come paragone lui il mio mitico Pixel 6a i sensori a bordo sono 3 un 50 megapixel f1.8 con stabilizzazione ottica un 12 megapixel grande angolare ed una 5 megapixel macro in questo momento vi sto facendo vedere delle fotografie singole scattate direttamente da questo dispositivo e come potete vedere la qualità è sicuramente molto molto buona ma andiamo ad analizzare queste foto di confronto questa è una foto sicuramente molto difficile fatta in bilico in controluce che è davvero venuta molto molto bene e in entrambi i casi hanno fatto un lavoro superlativo Samsung forse è riuscita a mettere a fuoco qui sotto come vedete il fiore rendendo la foto diciamo con qualche dettaglio in più ma è davvero una sottigliezza rispetto a quello che ha fatto Pixel diciamo che questa foto è veramente bellissima questa foto invece sempre molto ma molto difficile mostra come Pixel ed il suo HDR si è riuscito ad aumentare le ombre rendendo la foto comunque più luminosa e con più dettagli in generale quindi in questa fotografia secondo me Pixel ha fatto molto molto meglio anche questa foto a questa cassetta antincendio è molto simile ma analizzando proprio i dettagli e soprattutto il colore restituito per me è superiore Samsung ha reso molto bene le differenze sono anche qui minime veramente minime ma comunque ci sono un'altra foto dove solitamente i medio gamma fanno molta fatica è questa della porta d'uscita del mio condominio qui ragazzi pensavo fosse Pixel ad aver fatto meglio ma in realtà i travi su Samsung sono più belli più luminosi da vedere anche la parte esterna su Samsung si vede un filino di più e ha bruciato meno anche la pavimentazione e ha corretto soprattutto le ombre in tutta questa zona mostrando anche meno riflessi proprio sul pavimento qui do un mezzo punto in più a Samsung non credevo perché a display mi sembrava meglio quella di Pixel invece devo dire un ottimo lavoro un'ultima foto fuori dai miei scantinati con il sensore principale mostra un Pixel capace come sempre di tirar fuori più luce nella zona d'ombra soprattutto qui degli scalini e quindi qui c'è da dire che l'HDR di Pixel è veramente incredibile la grande angolare di Samsung ha fatto sicuramente un buon lavoro come vedete qui sull'erba ma ha mantenuto meno dettagli sul tavolo e sulla struttura in ferro di questa Pompeiana insomma qui all'esterno di uno dei giardini del mio condominio per quanto riguarda la cam frontale meglio Samsung ha più dettaglio qui come vedete nella zona della barba e in generale ha reso la mia faccia meno rossa mentre sempre il mio bel faccione in modalità ritratto in generale preferisco il Pixel anche se ha cannato di più la montatura dei miei occhiali dove solitamente con la modalità ritratto scontornarli è davvero molto difficile anche per tanti top di gamma comunque c'è più dettaglio e in generale la fotografia di Pixel mi ha convinto di più mentre ragazzi per i video beh guardate voi signori buongiorno allora questo video è registrato da due dispositivi molto interessanti il Galaxy A54 appena uscito contro il Pixel 6a la prima limitazione che devo dirvi su Samsung è che la risoluzione massima raggiunta in registrazione video è il 4K 30 frame non è possibile utilizzare il 4K 60 frame inoltre non è possibile attivare nessun tipo di stabilizzazione con questa risoluzione cosa che invece posso fare a 1080p a 60 frame un po' un peccato perché comunque è una macchina che di listino costa ben 500 euro dove invece ragazzi fa sicuramente meglio a livello di risoluzione nei video è Samsung che permette l'Ultra HD a 30 frame per secondo mentre Pixel è massimo un Full HD però la qualità in generale almeno così a display mi sembra ancora comunque migliore in Pixel e soprattutto la mia tuta in questo momento vedete qui è più illuminata su Samsung la display la vedo un pochettino più oscura più blu però è più grandangolare guardate alla stessa distanza quanto sono più lontano con Samsung rispetto a Pixel ci sono poi altre chicche molto interessanti come l'audio stereo che fortunatamente c'è e suonate decisamente bene il wifi è di tipo 6e il bluetooth è 5.3 ovviamente c'è l'NFC il GPS che prende a bomba con dei fix da paura in più a differenza di moltissimi competitor è il P67 quindi contro acqua e polvere quindi tutto molto molto bene ma purtroppo manca una cosa importante la ricarica wireless che mi sarebbe piaciuto avere su questo dispositivo e manca la modalità desk che potrebbe dare quel qualcosa in più per tutti quelli che non vogliono svenarsi per un top di gamma Samsung e poter utilizzare questo tipo di tecnologia certo la vediamo sui top secondo me Samsung dovrebbe riuscire a portarla anche sulle versioni A visto che ormai siamo arrivati al prezzo di 500 euro mentre ragazzi per l'autonomia non lo so è un po' troppo presto per parlarne quello che posso dirvi è che ha un modulo da 5000 mAh il processore non è particolarmente energivolo non scalda eccessivamente anche quando sotto stress e allo stato attuale che sono al terzo giorno di utilizzo ho sempre superato le 5 ore di display avanzando circa il 30% di autonomia di batteria ma sinceramente ragazzi per me potrebbe fare anche 6 giorni di autonomia ma non è lo smartphone che terei in tasca tutti i giorni perché ok l'autonomia ok che bello ma quando spendo così tanto voglio e chiedo di più quindi sì ragazzi con questa mia ultima affermazione penso di avervi detto abbastanza palesemente cosa penso penso che una macchina come questa questo prodottino meriti un hardware superiore vero prestissimo sicuramente calerà di prezzo ma vuoi o non vuoi sotto al cofano memorie e anche processore alla fine sono limitanti per un prodotto che di destino costa 500 euro 500 cocuzze sicuramente però ci sono anche alcuni aspetti che non mi permettono di bocciarlo completamente e di fare il reso dopo 48 ore perché qui siamo certi degli update è uscito con Android 13 ha l'audio stereo ed è certificato IP68 scatta anche delle buone foto ed ha una buona autonomia e incrociamo le dita ragazzi davvero incrociamo le dita che non facciano casino con il sensore di prossimità perché sarebbe davvero una barzelletta bene ragazzi per oggi è proprio tutto come sempre mi raccomando prima di salutarci mettete un bel like a questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto e commentate questo video con un bel hashtag A54 anche sì o anche no in base a quello che è il vostro pensiero e spiegatemi anche educatamente il perché cosa vi è piaciuto e non vi è piaciuto di questo dispositivo e mi raccomando fate i bravi ciao c'è dimmi se non ha lag sto telefono diavolo sì ma vedi vedi come fanno le animazioni a tutti